Un'ora di Camera di Consiglio, con il processo durato mesi, a noi sembra un po' pochino, ci ne diamo conto che esistono diverse prospettive, andremo in appello. Qual è stato il dispositivo della sentenza? Cozzi ha preso la condanna a due anni con la pena sospesa, quindi già mi chiedo perché abbia dovuto fare la misura cautelare con la pena sospesa. L'intoressa Lazzarini mi parla un anno e tre mesi, mi parla un anno e due mesi, ma comunque non è tanto questo il problema, il problema non è questo perché noi intendevamo uscirne indenni e siamo sicuri che quella fosse la decisione più giusta e ragionevole anche sull'onda in tutta una serie di indicatori giurisprudenziali che abbiamo fornito. Faremo la pena.